Quora. E' un po' d'acqua freddo. Ci mettiamo per entrando? No, venga come si trova. E' proprio bravo con quella racchetta. Dovrebbe vedere che rovescio. Aspetti quando servirò le polpette Devo accendere le candele È indispensabile Nel rambo etichetta Ha comprato delle salviette E tanto vale redimersi del tutto Vede, io vivevo come Robinson Crusoe Insomma, come un naufrago fra 8 milioni di persone Poi un giorno ho visto un'orma sulla sabbia E ho trovato lei È una cosa meravigliosa Un pranzo per due In genere mangia solo Oh, no, no Qualche volta ceno con Eisenhower A volte con Billy Wilder O con Perry Como L'altra sera ho cenato con Greta Carbo Era molto più giovane, allora Saluto Saluto